I dati del Ministero della Salute confermano l'assenza dei casi di coronavirus in Molise. Nelle zone rosse di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna guariscono i primi pazienti infetti, ma l'allerta resta elevata. I dati che ci restituisce il Ministero della Salute ci confermano che non ci sono casi in Molise di coronavirus. Per quanto riguarda il Molise non ci sono casi, né casi positivi né casi sospetti, anche perché come la popolazione sa oramai, lo sanno tutti, tutte le persone che vengono dalle zone rosse, nei paesi interessati del nord d'Italia, devono comunicarlo alle varie sedi competenti, e quindi c'è un filtraggio veramente effettivo e positivo fino al 100%. Quindi i Molisei devono stare tranquilli, anche perché l'epidemia pare che stia scendendo, c'è questa fase oramai discendente che si sta registrando non solo nel nord d'Italia, ma anche in altri paesi. Quindi possiamo dire con una grande sicurezza che il Molise sotto certi aspetti è incorone. Per quanto riguarda invece le zone rosse, il dato è comunque quello di un calo, perché ci sono anche delle persone che stanno guarendo, ma l'attenzione resta alta. Come si devono comportare le persone che si trovano all'interno di quelle zone? Ci sono dei dispositivi abbastanza oramai programmati per quanto riguarda l'esolo di queste persone dai centri e così detti dalle zone rosse. Cioè queste persone non possono proprio uscire, perché c'è tutto un cordone di vigilanza, quindi si cerca di bloccare l'epidemia proprio bloccando fisicamente il movimento delle persone. Quindi nessuna persona può uscire. Solo quelli che sono usciti, certi giorni, 30 giorni, prima che praticamente ci fosse questa misura di sicurezza, solo quelle persone devono comunicare, nel momento in cui vanno nei paesi di origine, o in cui vanno a visitare altri paesi, devono comunicare di essere stati in queste zone rosse, proprio per evitare il contagio. E fare questa misura sia veramente efficace, perché per non ripetere, anche ora non ci sono dei casi sul territorio nazionale.